Lo stadio di Via Benedetto Brin ospiterà le gare di calcio maschile e femminile, fra cui quelle della Nazionale Italiana Femminile. Al palazzetto dello sport, invece, si svolgeranno le partite di pallavolo maschile e femminile, fra cui quelle delle azzurre. I giochi del Mediterraneo 2026, come è noto, avranno anche Brindisi come centro dello svolgimento di competizioni prestigiose e 10 milioni stanziati serviranno per rifare il lucca agli impianti. 6 milioni, come è noto, sono andati al miglioramento dello stadio Fanuzzi. C'è dunque la copertura della gradinata, quella che vedete nelle immagini, nel progetto per il restyling del Franco Fanuzzi per i giochi del Mediterraneo. Gradinata che sarà coperta, ma non unita alla curva sud, come si è detto in un primo momento. 4 milioni sono stati assegnati, invece, per il miglioramento della viabilità del Palapentassuglia. Ci saranno ulteriori 400 posti auto e sarà sistemato e completato l'impianto dell'area condizionata all'interno del palazzetto, al momento non funzionante. I primi bandi sono stati assegnati. L'azienda RT Bolina Ingegneria, con sedia a Mestre, è vincitrice dell'appalto per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativa allo stadio Franco Fanuzzi. A vincere, invece, la gara per gli interventi al Palapentassuglia è stata la RT Progettazione Stradale Aeroporti, con sedia a Milano. Insomma, i giochi del Mediterraneo, anche se non prettamente sul fronte sportivo, iniziano a muovere i primi passi.